Una catena di missive riservate potrebbe rivoluzionare il mondo di terra amara. Accompagnateci nella scoperta del passato enigmatico di Demir, un individuo la cui esistenza è intrisa di misteri e controversie. Tra impegni disattesi, intimidazioni sottili e verità occulte, esploreremo ciò che si nasconde dietro le apparenze rispettabili di Chukurova. Zuleya, con gli occhi traboccanti di angoscia, si confida col suo leale destriero sui conflitti che lacerano il suo spirito. Il destino, sempre pronto a sorprendere, introduce improvvisamente Fikret. Con passo calcolato e un volto marchiato dal pentimento, si avvicina a Zuleya. Le sue parole sono un torrente di scuse per l'attacco a Akan, giustificandosi con il sospetto che lo consuma. Tuttavia, Zuleya, temprata dalle troppe tempeste, respinge le sue scuse. Fikret, hai aggredito un uomo, afferma, con una voce tremante ma ferma. Fikret, con uno sguardo che implora clemenza, ribadisce il suo bisogno di proteggerla, ma Zuleya è inamovibile. Si rivela come la potente padrona di Chukurova, con un'impresa che occupa 140 persone e 12 guardiani al suo servizio. Non cerca un salvatore, ma rispetto. Mentre questi due spiriti si scontrano, una figura osserva celata, Lutfi, con occhi pieni di apprensione, ascolta dietro la porta. E mentre il dramma si sviluppa, decide di preparare le valigie, stanca delle tensioni che infestano l'ambiente. Ma proprio quando sta per partire, Zuleya irrompe con una supplica disperata. Ti prego, non partire, implora, ho bisogno di te. Nell'oscurità di una cantina, dove ogni mistero trova asilo, Fikret e Cetin si incontrano, bicchieri in mano, condividendo non solo il vino ma anche i fardelli dell'anima. Fikret, con lo sguardo perso nel vuoto, esprime la sua inquietudine per l'ombra di Akan che si allunga su Zuleya. Poi Cetin, mosso da un pensiero improvviso, si alza e lascia la cantina, con la promessa di una cena che lo attende con Gulten. Contemporaneamente, Fikret sente il bisogno di un consiglio, di parole rassicuranti, e chiama Sermin per parlare con Betul. Lei, come una visione in rosso, si appresta all'incontro, trucco e abito come corazze in un mondo di sguardi e bisbigli. Insieme, si dirigono al club, dove le dame, con occhi inquisitori e voci sommesse, iniziano a sussurrare. Fusun si avvicina e interroga sul loro arrivo. Betul, con un sorriso che cela più di quanto mostri, risponde che hanno deciso di prendere un tè. Ma lontano da sguardi indiscreti, sulla terrazza della villa, Zuleya e Sanje discutono di Fikret. Sanje, con tono preoccupato, rivela che si mormora che Fikret ambisca la loro fortuna, un pensiero che agita anche Lutfi, spingendola a considerare la partenza. Torniamo a Betul e Fikret. Lui, con voce decisa, confida a Betul che da quando Demir è sparito, Zuleya e i figli si sentono smarriti, sfiduciati. Mehmet, con la sua cortesia esagerata, sembra celare qualcosa, e Betul, con un intuito che solo le donne possiedono, percepisce la necessità di cautela. Fikret, trovando in Betul un rifugio, le chiede di rimanere vigile, di avvisarlo se nota qualcosa di insolito. E mentre si avvicinano per prendere un gelato, un gesto imprevisto cambia tutto, Fikret, con una macchia di gelato sulla camicia, e Betul che si avvicina per pulirla. I loro sguardi si incrociano, e in un attimo che sembra sospendere il tempo, condividono un tenero bacio. Al mattino, Fikret si sveglia, osservando Betul che riposa accanto a lui. Si prepara in fretta per andarsene, ma Betul, svegliandosi, propone di fare colazione insieme. Fikret, con la mente già altrove, declina, affermando di non avere tempo. Betul insiste, suggerendo un pranzo insieme, ma Fikret, evitando lo sguardo, le dice che sarà impegnato tutto il giorno. Betul rimane sola, l'animo appesantito e lo sguardo intriso di tristezza. E Fikret, allontanandosi, sente il peso delle sue scelte. «Cosa hai fatto, Fikret, cosa hai fatto?», si domanda, con un rimorso per quello che ha fatto. Nell'ambiente teso dell'impresa, Zuleya, con uno sguardo scrutatore, pone domande. Betul, con la sua abilità di manipolatrice, le assicura che i sospetti di Fikret sono infondati. «È questo che hai detto a Fikret?», interroga Zuleya. Betul, con un sorriso che maschera più di quanto riveli, mente, placandola. Nel suo intimo, però, brama di vedere Zuleya con Akan, sperando così di eliminare un ostacolo ai suoi piani oscuri. Akan, con la fermezza di chi insegue la verità, interroga Kadir sul motivo per cui ha eliminato Fekeli, un uomo di cuore. Kadir, con un grido che sembra scuotere le fondamenta stesse dell'essere, lo accusa di essere accecato dall'interesse per Zuleya. Nel frattempo Erkan cade nella trappola tesa da Betul. Lei, con l'arte di una sirena, lo avvolge nella promessa di un weekend insieme in un hotel. Con incantesimi fatti di parole e sguardi, lo induce a firmare delle fatture che lo incastrano come un ladro. Poi Betul cerca Zuleya e le mostra le fatture firmate da Erkan. Zuleya, con l'animo in tumulto, rifiuta di credere a tali calugne, decisa a indagare più a fondo. Betul, con la malizia che le scorre nelle vene, cerca di allontanare Erkan da Zuleya, vedendolo come un intralcio ai suoi piani malevoli. Nel frattempo, nuovi personaggi si affacciano. Selma e Aiten cercano Zuleya per estorcerla con storie del passato di Demir. Discutono, tentando di rievocare il nome della prima moglie di Demir, ma la memoria sembra sfuggente. «Non lo so, lei è la seconda moglie», dice una, mentre l'altra conferma, rivelando che Demir era precedentemente sposato con un'altra donna. E poi c'è Ulya, la giovane sorella di Akan, un fantasma del passato che riemerge con narrazioni di amore e sofferenza. Demir aveva una relazione con lei, ma suo fratello Akan era all'oscuro. Ulya parlava di nozze con Demir, ma il destino aveva in serbo altri piani, e Demir finirà. per sposare Felicia. Zuleya, con l'animo oppresso, ascolta queste storie che sembrano appartenere a un'altra vita. Selma, con la determinazione di chi vuole svelare la verità, le rivela che Ulya ha inviato lettere disperate a Demir. La ragazza, dopo una tragica caduta dal quarto piano, è rimasta menomata, condannata a una vita di dolore a causa di Demir. Zuleya, con gli occhi che riflettono una tempesta interiore, ascolta, ma nel suo intimo sa che questa storia, per quanto straziante, non le appartiene. Zuleya, con l'animo già lacerato da queste rivelazioni, non può più sopportare le insinuazioni velenose di Selma e Aiten. Con un gesto risoluto e la voce che trema di rabbia, le allontana. Ma mentre si ritirano, Selma lancia un'ultima frecciata, rivela che Demir pagava loro per il silenzio e minaccia che, se Zuleya non continuerà a pagare, lo scandalo infangerà il nome di tutta Cucurova. Akan fa il suo ingresso, portando con sé un barlume di sostegno. Zuleya, con gli occhi che narrano storie di dolore e tradimento, gli confida tutto nei minimi dettagli. Akan, con la fermezza di chi è determinato a rendere giustizia, parte immediatamente alla ricerca di sua sorella Uliya. Akan si confronta con Uliya, chiedendole della sua relazione con Demir. Lei, con gli occhi persi in un mare di ricordi, conferma e, con mani tremanti, gli mostra le lettere di Demir. Con voce rotta, legge ad alta voce quelle parole che un tempo erano dolci promesse e ora non sono che l'eco di un amore perduto. Mia cara, è stato bello che i nostri sentieri si siano incrociati, ogni istante con te è stato prezioso. Ma ora, tutto è finito, dimenticami. Ho deciso di sposare un'altra. Non cercarmi più. Le parole di Demir, aspre e definitive, cadono nell'aria come sassi, e Uliya, con le lacrime che le solcano il viso, si abbandona al dolore. Akan, con il cuore traboccante di rabbia, le assicura che farà pagare Demir per ogni sofferenza inflitta. In un'altra scena tesa e carica di sospetti, Zuleya, tenendo in mano le false fatture, affronta Erkan. Le sue parole sono come dardi, ma Erkan, con un viso segnato dalla disperazione, respinge ogni accusa. Racconta di come Betul si sia presentata a lui piangendo, supplicando aiuto per un debito di 20.000 lire e promettendo di saldare il mese seguente. Non ho fatto nulla, è una trappola, insiste Erkan, ma Zuleya, non accetta le sue spiegazioni e lo respinge. Nel frattempo, Betul, con la freddezza di chi muove pedine su una scacchiera, cede le terre di Demir a Kadir, il tutto alle spalle di Zuleya. Torniamo poi a Akan e Kadir, dove Akan rivela la tragica vicenda di sua sorella Uliya, che si è lanciata dal balcone per colpa di Demir. Ho letto le sue lettere, si sono incontrati a Mersin, afferma Akan, la voce carica di un dolore che non trova sollievo. Conclude poi con una minaccia oscura, privare Demir Yaman di tutto, farlo pagare per ogni lacrima versata da sua sorella. Ma quando il mosaico sembra quasi completo, Aiten giunge alla villa Yaman con una nuova lettera. È un addio definitivo e crudele da parte di Demir, rivolto a Uliya. Parla di minacce, di una storia finita e di un futuro con Felicia. Altrimenti ti distruggerò, chiude la lettera, parole che pesano come macigni. In quel momento, Zuleya, con la lettera in mano, inizia a ripercorrere i momenti vissuti con Demir. Ricorda il dolore, le minacce, le volte in cui è stata maltrattata e proibita di vedere i suoi figli. Ogni ricordo è una ferita che si riapre, ogni parola un eco di un passato che rifiuta di lasciarla andare. Mentre i ricordi la avvolgono come un manto, Zuleya si trova di fronte a una verità troppo grande per essere ignorata. Se volete sapere come continua scrivete qui sotto, sì, voglio il video!